L'ultimo episodio di questa serie di postcars ci porta in una popolare zona viticola della regione kazacca di Almaty. Qui nella Valle dell'Assa, circondata dalle imponenti montagne di Tian Shan, alcune delle più note etichette kazacche stanno aiutando a rilanciare la cultura storica del vino. Le condizioni qui ai piedi delle montagne coperte di neve sono considerate perfette per la vinificazione. Mille metri sopra il livello del mare, un terreno fertile e una fresca brezza che impedisce la maturazione prematura dell'uva. Alcuni dei vini prodotti qui hanno vinto premi a concorsi internazionali, tra cui una medaglia d'oro in Francia nel 2015. Le vigne del vino Arba vengono coltivate usando le nostre radici. Durante il processo di vinificazione non usiamo prodotti chimici. Facciamo prodotti al 100% naturali, organici e biologici. Aperta al pubblico per escursioni e degustazioni, questa azienda utilizza bottiglie, tappi e confezioni da fornitori europei e le botti di rovere provengono dall'Italia e dalla Francia. E alla fine della nostra visita, giusto il tempo per un saluto da brivido dalla squadra di Postcards. Grazie. Grazie. Grazie.